o meglio, di questo marmo che copre il tavolo autentico che c'è sotto. Quando Donna Rachele ha riavuto la casa di ritorno, naturalmente ci sono stati i fedelissimi che gli hanno regalato tante cose, tra i quali quelli di Massa Carrara, che gli hanno regalato questo marmo. E lei su questo marmo qua, fino a quando si può dire pochi giorni prima di morire, ha fatto sempre le sue tagliatelle fatte a mano, perché lei poi andava nell'orto. Voi sapete che Donna Rachele faceva l'orto anche a Villa Torlonia, dappertutto, perché allevava i polli e si nutriva delle uova. Non le mangiava le galline, però strano dire, perché al duce non piaceva la carne. Infatti c'è un aneddoto che una volta Mussolini era andato a pranzo con un famosissimo scrittore inglese e quando gli hanno approntato un pollo, lui si è rivolto all'altro in inglese, perché il duce poi parlava e scriveva correttamente quattro lingue, e gli ha detto, ma non mangeremo mica questi cadaverini noi, vero? che siamo vegetariani, ecco, tanto per dire. Quindi le galline le servivano a Donna Rachele solo per le uova, perché con le uova facevano le pappardelle. Ecco, voi noterete poi che in questa tavola c'è un set composto da una scodella, un piatto fondo, un piatto piano, che è quella che era tipica in dotazione delle colonie che c'erano in Italia. Poi troverete una bottiglia da latte, perché Mussolini regalava un litro di latte al giorno a tutti gli operai che lavoravano nelle fabbriche e che lui pensava respirassero aria tossica. In particolare a quelle donne che lavoravano nelle manifatture dei tabacchi. E allora in quel periodo lì, e questo è stato raccontato anche da Pavarotti, perché lui è stato figlio di un'operaia che lavorava in una manifattura dei tabacchi, quando erano in stato interessante, non solo lui dava il latte gratuito, un litro al giorno, con l'obbligo di berlo, però aveva creato anche l'asilo nido, diciamo, perché così per non allontanare il bambino dalla madre, la madre lo andava solo a trovare e gli dava il latte, che non era tossico per cui il bambino poteva crescere. Alla parete troverete un quadro nel quale sono state inserite delle ricevute del vitalizio che hanno dato a donna Rachele, però le l'hanno dato nel 74, lei è morta nel 79. La pensione di guerra che spetta a tutti, a lei l'avevano negata, in quanto che Mussolini, come capo del governo, aveva rinunciato al suo stipendio, per cui quando Almirante, finita la guerra, aveva proposto di dare la pensione alla vedova del duce, è stata negata perché non avendo lui accettato lo stipendio, alla vedova non doveva aspettare niente. Poi sono passati degli anni, sempre Almirante è ritornato all'attacco e insieme a Andreotti hanno trovato una scappatoia, gli hanno dato il vitalizio come vedova di un comandante delle forze armate e questo vitalizio è stato siglato nel 69, però dopo portratto fino al 74 e nel 76 hanno cominciato a pagargli questo vitalizio, lei è morta nel 79, per cui per pochi anni l'ha potuto gorele. Comunque era il principio, perché lei non le voleva i soldi dallo Stato, però siccome tutti gli dicevano ti spettano, va bene, allora io li voglio e li devolgo in opere di bene. Infatti nell'archivio che è nello studio di Donna Rachele ha ricevuto tantissime lettere da parte di istituti religiosi, di famiglie, così, perché lei i soldi li pigliava, da una parte li pigliava, da una parte però li ridonava agli italiani. Questa è la sala da pranzo, che fortunatamente è rimasta, ad eccezione delle sedie che appartenevano alla rocca delle camminate e che sono state recuperate, ma il tavolo non l'avevano portato via, anche perché date le dimensioni sarebbe stato un po' difficile. Il tavolo ha una sua stranezza perché, non so se avete notato, è molto basso e questo in quanto che Donna Rachele, arrivata a una certa età, si è accorta che stava diminuendo di statura, le dava fastidio mangiare con i gomiti alzati, ha chiamato il suo uomo di fiducia e gli ha fatto togliere la base delle gambe, ovvero il cipollone. Ecco, poi sempre in questa stanza potete notare, io ci tengo a sottolineare, che tutta la casa è stata fatta con queste mattonelle che in quel periodo di costruzione dell'Italia il duce aveva fatto mettere in tutte le case popolari di tutta Italia, non solo ma anche in certe scuole e anche negli ospedali e Donna Rachele aveva voluto che anche nella sua casa ci fosse lo stesso tipo di pavimento. Poi, interessante, è il quadro di Donna Rachele che voi vedrete alle mie spalle e che è stato l'unico quadro, ritratto, che lei si è fatta fare con Edda, Bruno e Vittorio. Ed è un quadro che era stato requisito a Villa Torlonia perché quando lei ha lasciato Roma, Villa Torlonia è stata chiusa e il Ministero delle Finanze aveva fatto l'inventario, gli aveva mandato tutta la nota delle cose che aveva inventariato e nel 57, il famoso 57, quando gli hanno ritornato la casa, la Salma, gli hanno dato la possibilità anche di riprendersi qualcosa, quello che lei desiderava e lei ovviamente ha desiderato avere di ritorno il quadro. Ecco, entriamo nello studio del Duce e in questo studio io entro sempre con molta commozione. Vedrete che c'è una lampada molto strana che è un regalo di Gabriele D'Annunzio. Dico strana come strano era anche il grande poeta al punto che quando l'ha avuto ospite Gabriele D'Annunzio Mussolini al vittoriale lo svegliava facendo sparare il cannone alle 5 di mattina. Non solo, ma quando è morto gli ha lasciato scritto per testamento che gli avrebbe donato il lobo dell'orecchio sinistro però lo doveva tagliare con il pugnale. Ecco, cose così del grande bate. Poi trovate sempre sul tavolo un libro che è stato scritto in 48 ore dal Duce quando è morto suo figlio Bruno il cui ritratto a pastello c'è nella parete dietro alla scrivania. Poi sempre sul lato sinistro del quadro troverete due cose importanti che riguardano la conciliazione tra Chiesa e Stato voluta da Mussolini nel 1129. In un quadro c'è addirittura un bronzo, una riproduzione un regalo del Papa fatto al Duce in quella circostanza. Dal lato invece guardando il ritratto di Bruno a destra voi trovate i cappelli che sono stati sequestrati al suo tempo alla famiglia. Altre cose interessanti voi vedete nelle vetrine che sono gli archivi della famiglia Mussolini ovvero sia gli archivi di Donna Rachele perché Donna Rachele dal 57 fino a quando è morta nel 79 ha continuato a ricevere tantissime lettere che poi il figlio ha cercato di catalogare e le ha messe nei faldoni in ordine alfabetico. E attraverso la lettura di queste lettere si capisce la grandezza di questa donna che è sempre stata una musa per Mussolini è stata una sposa, un amante una consigliera, una detective è stata proprio una donna una donna grande con tutte le lettere maiuscole. Accanto ai faldoni di Donna Rachele troverete poi dei testi di scrittori che da tutte le parti del mondo hanno spiegato la figura di Mussolini. Questo è un quadro donato da dei frati missionari cinesi al Duce ma è molto importante perché è fatto di seta di tutti i fili di seta. E questa è la cassetta medica personale del Duce. Ecco a te, Isa, il compito di spiegare che cosa significava per il Duce il violino. Benito Mussolini amava distrarsi suonando questo violino e ad età del figlio romano suonava solo raramente. Qui invece è riportata una frase del testamento politico del Duce e vorrei soltanto che un giorno gli italiani sapessero ricordare che li ho soprattutto amati e che ogni mio atto e pensiero furono rivolti alla grandezza dell'Italia. Mentre qua invece ci sono due moto bianchi originali dell'epoca, sono del 1933. Quella nera era usata dal Duce e dalla sua scorta mentre quella verde era una moto militare. Infine questo era il centralino telefonico che il Duce utilizzava per collegarsi con tutte le città di cui aveva bisogno. Questa è quella che era la sala d'attesa dello studio del Duce e in questa sala di notevole c'è il ritratto del Mussolini fatto da un pittore molto famoso della casa reale inglese, Lord Salisbury, il quale ritratto riprende un pochino il motivo della Gioconda. Infatti, se voi girate tutto intorno al tavolo guardando sempre fissi gli occhi del Duce o comunque il volto, voi vedrete che sembra quasi che vi accompagni. Ecco, di importante c'è sulla parete anche un profilo del Duce fatto scolpire, che l'hanno scolpito la Guardia Forestale sulla montagna del Passo del Furlo. Profilo del Duce che ancora tutto resiste. E questa è la radio che Guglielmo Marconi ha regalato al Duce. Questa stanza qui l'hanno adibita all'aviazione, quindi ci sono tanti quadri vedrai che raffigurano Bruno e i suoi piloti e poi dopo c'è, in una vetrina c'è il cappello da pilota di Bruno. Dopo ci sono, di interessante, le racchette del Duce che erano state sequestrate e poi dissequestrate e ritornate alla famiglia. Poi un paio di sci trovati quando hanno rifatto il pollaio di Donna Rachele. Poi c'è la vetrina molto importante dei fucili della famiglia, dei pugnali, delle tante cose appartenute alla famiglia. E poi, molto importante, è la tuta tipica che indossava Bruno nella sua attraversata dei solci verdi. Naturalmente la tuta l'hanno ritrovata diversi anni fa in un magazzino pieno di tute ma è consegnante agli avviatori italiani. Questo è il manifesto delle elezioni del 1934. è un manifesto molto importante perché il 1934 è l'anno di massimo consenso del Duce e qui ci sono riportati i risultati delle elezioni. Da notare, solo lo 0,15% di contrari. Questa statua è stata donata dagli abitanti di Sabaudia in occasione della prima ammietitura per ringraziare il Duce di aver fatto costruire Sabaudia. Queste invece sono le dichiarazioni di guerra del 10 giugno del 1940. Questa è una foto delle prime donne soldato del servizio ausiliario femminile. Questa è una bandiera della Repubblica Sociale Italiana originale dell'epoca con tutte le firme dei combattenti. Vi presento la vedova di Romano Mussolini la signora Carla Puccini che adesso ci guiderà nelle camere da letto della famiglia Mussolini. Questa è una divisa dell'epoca ed è fatta di un tessuto particolare che si chiama Orbace. Veniva fatto in Sardegna e veniva poi fatto bollire e bollire finché diventava impermeabile e per i soldati andava benissimo e teneva anche caldo. Dunque questa è la stanza che da ragazzo occupava mio marito Romano Mussolini. e l'ultima volta che Romano ha visto suo padre è stato il 17 luglio del 1945. Era molto attaccato a suo padre e gli voleva un gran bene quindi ha avuto un gran dolore sapendo quello che poi è successo il 28 di luglio. mio marito era un grandissimo gezzista conosciuto in Italia e anche in tutto il mondo. Era un uomo buono, colto e molto generoso. Questa è la stanza di Anna Maria. Anna Maria era nata come Romano in questa casa. Romano era nel 1927 Anna Maria nel 1929. Nel 1936 si è ammalata di poliomelite e stava su con questo busto che voi vedete. Quando è finita la Repubblica di Salò questo busto nella confusione se lo sono dimenticati. Dopo hanno saputo che era stato requisito ed era a Brescia. Dopodiché loro sono stati mandati in campo di concentramento vicino Terni e dopo il 26 luglio del 1945 in esilio a Ischia. Anna Maria era una donna molto intelligente e molto sensibile. Questa è la stanza di Edda che poi il 24 aprile del 1930 è diventata Edda Ciano. Edda è nata dalla convivenza di Mussolini con Rachele ed è nata nel 1910. È stata molto vivace da ragazza carattere particolare e il Duce soleva dire che aveva domato tante persone compreso in un certo periodo gli italiani ma non era riuscito a domare Edda. Edda poi è morta nel 1995. Da Ciano ha avuto tre figli Fabrizio, il primo Edmonda e Marzio. Ha avuto anche lei i suoi dolori perché ha perso Marzio giovane e poi ovviamente nel 44 la perdita del marito. Questa è la stanza di Donna Rachele e di Benito Mussolini. In questo letto nel 27 sono nati è nato Romano e nel 29 è nata Anna Maria e il 30 ottobre del 1979 in questo letto Donna Rachele si è spenta. Questa è la divisa che il Duce ha indossato quando a Milano ha incontrato il Cardinale Schuster un incontro burrascoso devo dire e comunque da quando hanno portato questa divisa è venuto un visitatore che si chiama Massimo ed era un sensitivo guardandosi attorno si è accorto che in quello specchio viene fuori il volto di Mussolini. Quella poltrona il Duce si sedeva prima di coricarsi per leggere ancora qualche cosa e ovviamente siccome Donna Rachele e il Duce amavano i gatti come poi potete vedere i gatti hanno fatto il loro lavoro. Qui tra il bagno e questa piccola saletta e poi la stanza da letto ha sempre vissuto Vittorio. Vittorio si è sposato con Ursula nel 1937 ha avuto da questo matrimonio sono nati Guido e Adria e quando poi Guido a sua volta ha avuto tre femmine e poi ha avuto un maschio e Vittorio come Bruno erano nati entrambi a Milano. Bruno era del 1918 e invece Vittorio era del 1916. Vittorio si è sempre occupato fin da ragazzo di cinema e ha girato dei film in particolare un film che si chiamava Luciano il pilota e con la partecipazione anzi la sovvenzione di Gianni Agnelli. In questo Vittorio poi è mancato nel 1997. Qui di interessante c'è questo ritratto del duce che ha il collare dell'Annunziata che gli era stato donato dal re Vittorio Emanuele III che poi ovviamente lo ha bellamente tradito perché l'ha fatto poi come sappiamo prelevare da Villa Savoia e portato prima a Ponza poi alla Maddalena in Sardegna e poi a Campo Imperatore. a po da tanto a mamma da Oltre alla villa che...